bello a tutti ragazzi io sono sempre magicolo e oggi siamo qui per un nuovo gameplay con car mechanic simulator 2014 questa demo l'ho scaricata da steam e e questo è la quarta volta che sto facendo questo gameplay quindi spero che con tutte le impostazioni al minimo come potete vedere spero che questa volta il gameplay non salti ho fatto questo gioco perché lo chiedevati molti di fare giochi di corso di macchine di racing alla fine ho detto e basta facciamo qualcosa di diverso avete visto che avevo già fatto un profilo rifacciamolo da carta perché voglio farvi tutto vedere dall'inizio ok allora questo gioco lo scaricato da steam come ho già detto e sono circa 500 megabytes di file adesso si partirà con un bel tutorial che a cui ci piace tanto la prima cosa vabbè il tutorial chi se ne frega è carina la casa l'officina allora la prima cosa che vi diranno è ovviamente di accendere la radio perché ovviamente il meccanico se non c'è la radio è come se non avesse il cuore poi bisogna tirare su sto coso e si schiaccia sto pulsante sto diventando un meccanico io ve lo dico è magicolo dei mechanic ok possiamo partire farò vi farò vedere solamente le cose più importanti come si gioca un po questo gioco così poi deciderete voi se andarlo a comprare ovviamente non sono un meccanico quindi possiamo anche tralasciare tutta sta roba ok molto interessante andiamo ad aprire la macchinina saliamo in macchinina e facciamo un bel test a non so che cosa però spero che voi lo sappiate allora tanto sto coso qui mi sembra un aggeggio infernale di richard benzo cancelletto 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 perfetto tutto perfetto o non lo so perché se ne frega la mo si può usci usciamo dalla macchina facciamoci un giretto avete la macchina se in buono stato si è apposta 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 stacchiamo di una ruota vi faccio vedere come si stacca la ruota allora ok allora bisogna staccare le viti schiacciando col mouse e ecco qua stacchiamo pure questa vita stacchiamo le tutte stacchiamo pure queste con questo gioco veramente vi allenate a capire quali sono i componenti ad esempio se dovete fare la patente questo gioco vi sarà utile perché comunque andrete a vedere tutti i componenti delle macchine questo è il freno ad esempio chi non lo sapesse quindi dobbiamo staccare i cosi dei freni io non sono un meccanico però penso che sia così almeno poi per uscire come se va a uscire no? ah non posso uscire ah ecco qui vediamo l'usura dell'aggeggio adesso vorrei provare a andarmela dall'altra parte però adesso se va e vabbè rimettiamo lì su dai che c'è prega e poi se fanno un incidente mi è colpa mia ok adesso per uscire da qua io me ne volevo andà me ne volevo andà ah si può anche fare lo zoom guardate ragazzi lo zoom poi per uscire ma come si esce da qua? ah qui vediamo tutti i componenti hai visto tutti i componenti ma come si esce? ah esaminiamo addirittura le condizioni guardate qua le condizioni 10% quindi questa qui sarà quella da sostituire quindi dovrei chiamare il signor meccanico che me ne sostituisce però visto che sono io a sto punto io direi di rimettere tutto come era prima chi si è visto si è visto se uno fa poi un incidente che c'è frega ok ok quindi rimettiamo tutto a posto come era prima noi non abbiamo visto niente ragazzi tutto a posto a posto basta che ci pagano che ci frega ok e via su via ok a posto se può uscire no se può uscire dai ho messo tutto a posto fatemi uscire fatemi uscire ok esco poi apriamo il cofano e andiamo a vedere che c'è che c'è sta qua ah ecco questo il motore qui forse è meglio che non ci metta proprio mano se no mi ammazzano allora controlliamo l'olio l'olio a posto a posto questo che è? non lo so questo che è? non lo so apriamo l'abbiamo distrutto come vedete apriamo qui ah ci buttiamo dentro questo buttiamocelo ok a posto a posto a posto per uscire ok vediamo le condizioni tutto a posto tutto a posto tutto a posto a posto ok andiamo a vedere l'ultima cosa che serve qua dietro no ok quindi abbiamo visto tutto di questa macchina ruote motore e all'interno diciamo che questo è quello che dovevate vedere per questo gioco se vi è piaciuto scaricate la demo su steam e se vi è piaciuto ancora che succede se vi è piaciuto ancora compratelo che è stato? ah ok e qui possiamo andare a comprare anche tutte le cose ok questo era tutto da magicolo ma che schifo di antivirus usa ok ciao a tutti e alla prossima soldi 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 no soldi 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 i soldi soldi castle e al non